Quando la tecnologia si unisce alla mente umana. La Polizia di Stato ha svelato i dettagli della complessa indagine di Palazzo Ducale, che proprio grazie all'utilizzo di avanzati mezzi tecnologici ha reso possibile il ritrovamento dei ladri, operazione che si è dimostrata difficile dai primi momenti vista la loro abilità. In un video, la sintesi della lunga indagine dopo il furto lo scorso 3 gennaio. È stato un lavoro certosino perché siamo partiti da pochissimi elementi perché gli autori erano riusciti a allontanarsi prima che scattasse l'allarme e per cui grazie ai sistemi di video-sorveglianza e alla ricostruzione certosina di tutti quanti il percorso che è stato fatto individuando quasi negozio per negozio tutte le telecamere presenti sul percorso, è stato possibile prima individuare i soggetti e poi grazie anche all'ausilio del personale della polizia scientifica riuscire a dargli, a individuare bene il volto, le caratteristiche antropometriche per cui l'altezza, la fisicità, tutte queste cose qui. Successivamente con l'attività di indagine siamo riusciti poi a dare un nome ai soggetti e quindi a localizzarli e ottenere la loro cattura. Geolocalizzatori, telecamere, programmi di ricostruzione facciale, tavoli touchscreen che uniti al lavoro di indagine hanno permesso di ricostruire prima i percorsi fatti dalla banda di ladri con l'apertura della teca e le immagini ingrandite dei gioielli rubati, poi tutto il resto. È stata un'indagine a 360 gradi dove è stata concentrata tutta quanta sia la tecnologia che l'esperienza investigativa tradizionale e ha portato a un ottimo risultato.